Sì, sono venuta ad annunciare dopo attenza e ragionata riflessione che ho deciso di correre per la carica di sindaco di Roma. Io credo che ogni donna debba scegliere liberamente come affrontare un momento particolare come quello della gravidanza, credo che ogni donna sia diversa e che ogni donna debba reagire come crede, quello che credo però con forza è che nessun uomo possa dire a una donna che cosa può e non può fare in ragione della gravidanza e a chi mi dice che forse non potrei fare il sindaco perché mi ritroverei a allattare mio figlio, ricordo che in una città che ha come simbolo una lupa che allatta due gemelli non sarà il problema il sindaco che allatta un bambino. Dicono che, certo voglio anche dire che farò la campagna elettorale con i tempi di una donna, farò la campagna elettorale con i tempi di una mamma, non intendo esagerare, non intendo strafare, non intendo fare nulla che sia sbagliato e confido che i romani capiranno, che le romane capiranno, che saranno solidali e che mi aiuteranno lo stesso anche quando magari dovessi sentirmi troppo stanca per fare un evento, un comizio in più rispetto a quello che avrei potuto fare. Io spero che Bertolaso faccia un passo di lato, nel senso che è una figura che ha dei profili che sono assolutamente ottimi, che potrebbe essere estremamente utile per il governo della capitale, mi piacerebbe che mi accompagnasse in questa sfida, certo non credo che abbia molto senso andare allo scontro per farsi strumentalizzare da questioni di partito e credo che Guido Bertolaso è una persona intelligente a cui piace fare cose e non parlare di voli, qualunque cosa lui voglia fare per me sarebbe una buona cosa, poi rispetterò ovviamente qualunque scelta lui Una scelta d'amore che faccio io, una scelta d'amore che chiediamo anche ai romani, perché si possa tornare insieme a testa alta a guardare il mondo intero e dire civis romano sum